Primo caso a San Martino in Pensilis, un caso di rientro. Si tratta infatti di una persona che era già contagiata dal coronavirus, ricoverata in un ospedale di fuori regione, dimessa e dunque rientrata in Molise. 48 tamponi processati nelle ultime ore, 11.322 dall'inizio dell'emergenza, pochi rispetto ai numeri dei giorni scorsi ma tutti negativi e questa è la prima buona notizia che si legge nell'ultimo bollettino ASREM. Le altre riguardano i dimessi dal reparto di malattie infettive, due ROM di Campobasso. Appartiene alla stessa comunità il guarito di giornata. Ci attesa intanto per l'esito dei tamponi effettuati sui vicini di casa del focolaio ROM di Termoli che preoccupa non poco i vertici di via Petrella. Nel bollettino c'è scritto anche che i casi attualmente positivi sono 215, i tamponi positivi 422, 9 i ricoverati in malattie infettive, 2 in terapia intensiva, 204 gli asintomatici a domicilio, 164 i pazienti guariti, 401 i soggetti in isolamento, 4 in sorveglianza, 327 le visite domiciliari effettuate dalle USCA. Grazie a tutti.